www.feyacciacca.it Par che noi si anima viva Ma non steri hai fai acciacca che ha dei foresti che ha rubato troppi aggino Insomma è gesta d'accordo che darò del fin Angelo, mi non fai la terapia di nessuno Mi pensi solo che la mia famiglia Ma i tedeschi non sono i nostri alleati? I nostri alleati? Ma qui già per una decisione La è da essere fatta Mi sorella non è buona di rassegnarsi Tutto il dico alla mia tottona Possibile che non ti possa fare qualcosa per aiutare i miei fiori? Se i foresti vi ha fatto qualche maia grazia Ma i tedeschi ha fatto una grazia? Dovamo denunciarli? Non è il caso di tirarne ai rider? Chiunque arresta o fa in modo che venga arrestato un soldato nemico Avrà la possibilità di liberare a suo piacimento un internato militare in Germania Le richieste verranno indirizzate al comando presidio militare germanico che ne curerà lì inontro Maria Mi so che avevi in casa dei ribelli Me l'ha dita una persona Agatha Proprio Mi era questa idea ma doveva fermarsi solo che una notte Dunca, non gli è partiti? Gli è partiti sì Quanti eri lì? Distotto Ange Mi vi consiglieria di lasciare la casa Fai come che vuoi Quando vorrò passare il castagnè Capirei Chiunque Il prossimo Shardo Que f*** Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti